segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ma prima mi aprite per favore rosalba scarantino rosalba è già stata nostra ospite il primo dicembre scorso ben trovata rosalba intanto come sta bene anche se inizia il conto alla rovescia quindi sto un po è il conto alla rovescia lo sta facendo perché lei percepisce il reddito di cittadinanza è una cosiddetta occupabile e quindi sente che è partito il conto alla rovescia perché a partire da gennaio avrà otto mesi di tempo per diventare occupata invece che occupabile diversamente alla fine dell'ottavo mese non si sa che cosa succede lupi lei avrebbe reso quegli otto mesi più brevi dovevano essere sei dal suo punto di vista ho capito bene sì ho presentato abbiamo presentato come noi moderati un emendamento che porta a quel termine a sei mesi ma contemporaneamente siccome questo questo riduzione di due mesi vale quasi 400 450 milioni destiniamo queste risorse tutte queste risorse alle imprese che assumono gli 840 mila tra virgolette occupabili in modo che sia un rapporto dire anziché dare il reddito di cittadinanza alla signora lo si dà al panettiere all'artigiano all'impresa che ha bisogno di lavoro e secondo me questo effetto si chiama politica attiva del lavoro è più da una risposta migliore che l'assistenzialismo perché la signora non sia contenta di avere il reddito di cittadinanza lei vuole la dignità di un lavoro e di un lavoro che sia pagato bene però il problema è se poi il lavoro lo trovo oppure no allora rosalba mi posso permettere di dire la sua età però di lavoro sa che ce n'è aspetti aspetti allora rosalba ha 49 anni non ha figli rosalba mi corregga se dico sciocchezza non ha figli e grazie a dio non ha disabilità quindi lei è a tutti gli effetti un occupabile perché rientra a tutte le caratteristiche delle persone vengono individuate come occupabili per lei il fatto di sapere che oggi ha otto mesi di tempo e addirittura con l'upi ne avrebbe sei che effetto le fa? beh io non allora il problema è che il lavoro non si trova non è che noi non lo almeno io non lo cerco io queste aziende che cercano il personale ma dove dove vanno a cercarlo perché io guardo le pagine dell'ampal e non ci sono offerte subito è aziende che fanno offerte e non ce n'è centri per l'impiego che sono scritte in tutti i centri per l'impiego del piemonte tutti e non ci sono offerti io vorrei sapere tutti questi imprenditori che dicono che non trovano personale ma a chi ti rivolgono? senta Rosalba ma lei che lavoro cerca? tutti i tipi di lavoro cui io sono posso fare tipo l'abbadante però giustamente per persone autosufficienti perché io non ho una preparazione tale da poter gestire una persona ammalata se no sarei un osso e sartoria e qualunque tipo di lavoro purché mi dia uno stipendio fisso e sicuro io non voglio un contratto di tre mesi che tra tre mesi lavoro e per un anno poi dormo per strada certo no io credo che la proposta che hanno fatto noi moderati in particolare i lupi sia una proposta molto interessante e anche intelligente ovviamente perché la prospettiva deve essere quella il problema è che quella proposta lì può funzionare in un momento in cui c'è un circolo virtuoso di cose che già girano se gli uffici del lavoro come ormai abbiamo documentato voi l'avete fatto un sacco di volte non funzionano e tu da oggi al domani non li rimetti in piedi è chiaro che il virtuosismo di cui parla lupi che sarà e deve essere la proposta ma certo che deve essere in prospettiva la strada però adesso se Rosalba c'ha sei mesi esatto Rosalba vede buio, vede nero non può essere la ghigliottina di io pensavo facesse il canale per il Natale dice mi sto preparando e invece giustamente non è così lei non pensa alle feste del Natale, al regalo del Natale lei dice su di me incombe questa ghigliottina dei sei mesi degli otto mesi del governo dei sei mesi che è la proposta di lupi allora è chiaro che tu questa cosa qui devi accelerare il passaggio dal reddito di cittadinanza per chi può lavorare a una soluzione come quella che indica lupi ma in otto mesi probabilmente non lo riesci a farci infatti la domanda che rimane sempre sospesa è se poi Rosalba un lavoro non lo trova che succede a Rosalba? lupi me lo dice una buona volta fra otto mesi e sei mesi se passasse la sua proposta Rosalba un lavoro non l'ha trovato ha fatto la formazione che le avete chiesto di fare ha fatto tutto ma il lavoro non ce l'ha che cosa le succede? lupi? mi riscusi intanto ovviamente credo che Rosalba abbia sottolineato una cosa che di offerte di lavoro da quello che intuisco poi bisogna portare ogni caso poi alla sua dimensione bisogna portare rispetto per tutti i casi e le persone che incontriamo con i loro bisogni però che non è che non trova offerte di lavoro ma la sua paura di trovare offerte o avuto offerte di lavoro non a tempo indeterminato ma a tempo determinato tre mesi, sei mesi e dice io vorrei un lavoro che mi desse una garanzia io credo che il tema certo che uno vorrebbe un lavoro che desse una garanzia a parte il fatto che nessuno può garantire un lavoro tutta la vita meno che sia dello Stato determinato dal rapporto tra la domanda e l'offerta mi scusi il problema è che anche il reddito di cittadinanza non può essere a vita tanto è vero che ha una scadenza il reddito di cittadinanza e se la signora Rosalba è arrivata alla seconda volta in cui gli ha rinnovato il reddito di cittadinanza e scade quando è scaduto cosa fa? allora vede che il problema è mettere in moto i navoietro non hanno funzionato il rapporto tra la domanda e l'offerta non esiste no no a me è chiaro cosa si deve fare per il futuro mi scusi e noi dobbiamo iniziare no Lupi però non scappi dalla domanda lei è troppo più bravo di me è troppo più sofisticato di me però la domanda era più dritta e più semplice mi scusi fra sei mesi mi scusi posso dirle una cosa lei non ha il lavoro né di un mese né di due mesi né di sei mesi né di un anno né di dieci anni che cosa le succede? facciamo questa ipotesi la peggiore poi prendiamo in considerazione tutte quelle che sono meglio cosa le succede? ci saranno gli strumenti di assistenza di assistenza anche per coloro che hanno perso il lavoro come ma se sarà sei mesi mi scusi perché è inutile girarci attorno noi dobbiamo trovare una soluzione che sia dignitosa e sia seria e la soluzione dignitosa e seria è il lavoro non l'assistenzialismo a vita ma ho capito detto questo se la signora fra sei mesi le faccio io una domanda a lei se la signora fra sei mesi è al secondo turno del reddito di cittadinanza e non trova il lavoro che cosa gli succede? risponda a lei ma io mi scusi 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 allora no vede che me lo deve dire lei perché siete voi che prendete le decisioni per la cittadinanza sa quanto la stimo ma le sto mi scusi siamo in collegamento e non voglio no no sa quanto la stimo volevo solo dirle nel paradosso che è evidente che uno non può essere lasciato da solo e dovranno intervenire strumenti di aiuto e di assistenza ma non possiamo metterci la coscienza a posto dicendo che tanto c'è il reddito di cittadinanza io devo assolutamente permettere che le risorse che spendo noi stiamo spendendo 9,5 miliardi di euro l'anno allora li abbiamo spesi bene i navigator non funzionano abbiamo trovato lavoro oppure no 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 ma guardi in questa trasmissione lei che ci segue lo sa bene in questa trasmissione sin dal principio abbiamo detto che quella gamba del reddito non funzionava perché succedeva che le persone il lavoro non lo trovavano e quella va senz'altro cambiata sul fatto che per cambiarla bastino questi 8 mesi secondo me è una follia pensarlo ho una domanda per la signora ad oggi lei è stata mai contattata ha rifiutato dei lavori che riteneva poco importanti cioè non sono stata mai contattata né dai centri dell'impiego né dal navigator anche ero io che all'inizio quando c'erano i navigator chiamavo il navigator due volte al mese per sapere se c'erano offerte perché io non ho fatto la richiesta del reddito per avere i soldi gratis e stare a casa io ho fatto la richiesta del reddito per la speranza di poi trovare un lavoro questo è il tema unico è lì che bisogna è lì l'unico l'ho fatto una domanda evidentemente non conoscevo la risposta perché conosco il caso oggi ma semplicemente perché se allora è vero questo come è vero è chiaro il meccanismo che non funziona e non lo risolvi togliendoglielo però evidentemente lui dice Lupi dice giustamente però devi agire su quell'altra parte ma mi è chiaro aspetti solo un attimo Lupi Rosalba ce l'ha la carta la famosa card del reddito eh sì è qui oh no lo sa perché le chiedo di mostrarcela perché in molti diciamo pensano che quella carta non lo so le consente di fare spese pazzi ovunque no allora facciamola vedere bene mi dica lei che ci compra con quella carta allora io le dico questa è la carta la carta viene caricata il 27 del mese come prima cosa faccio il bonifico per l'affitto perché devi avere un affitto regolare registrato ed essere in testa totte perché ho la compagno quindi la casena quindi l'affitto poi poi pago le bollette e dopo di che con quello che rimane ci faccio la spesa compro cose a lunga conservazione perché anche come nella legge c'è che da quando ti caricano la carta quando la ricaricano il mese successivo tu devi aver usato tutto l'importo quindi noi compriamo cose a lunga conservazione scatolame tutte le cose che possono rimanere che possono servire un domani quindi a lunga conservazione se gliela levano quella carta che fine fa lo salva? cosa? se gliela levano che succede? farò la fine prima di avere il reddito perché io nel 2018 lavoravo messa in regola poi ho perso il lavoro pian piano abbiamo perso tutto abbiamo vissuto tre mesi in macchina il mio compagno i tre mesi prima che mettevano il reddito e il mese dopo il reddito e finirò di nuovo così perché io non è che il lavoro non me lo cerco io me lo cerco il lavoro il mio compagno se lo cerchi allora i passi io che scuola non ne ho quindi magari non ho i titoli ma il mio compagno ha la patente C solo che ha 58 anni ed è troppo giovane per la pensione è troppo vecchio per lavorare e noi siamo combinati così noi non siamo di quelli che vogliamo i soldi gratis Rosalba le mando un abbraccio stretto stretto e poi tanto noi torniamo a vederci io scusi posso chiedere una cosa sono fuori tempo massimo Rosalba però la chiedo la chiedo uguale tanto io volevo voi avete il mio numero qualche imprenditore che ha bisogno di un autista di qualcuno ci chiami noi siamo qui noi siamo disposti pure a spostarci per lavorare siamo disposti pure a questo comunque ti sa ci vuole veramente coraggio una grande dignità guarda i lupi lo sa perché viene dalla tradizione cattolica è stato con Don Giussani quindi lui però ci vuole una grande dignità e coraggio per andare in televisione e dire io sono una persona povera e ho bisogno di aiuto io questa cosa qua credo ma non per buonismo questa cosa qua cioè di una persona che ci mette la faccia va in televisione dice io sono povero e ho bisogno di aiuto cioè superi anche la dignità chiedere aiuto non è una cosa facile non è facile chiedere aiuto Rosalba noi ci sentiamo presto ringrazio Maurizio Lupi ringrazio David Parenzo grazie a voi metteremo l'appello di Rosalba sui social sui social di Tagadac e vediamo Rosalba grazie ovviamente chiunque dovesse rispondere ti giriamo la proposta andiamo in pubblicità ok